Network Marketing Manager Podcast, intervista numero 32. Il podcast dove i network marketers professionisti condividono la loro esperienza in modo che anche tu possa imparare come costruire e gestire un'attività di network marketing e raggiungere la tua libertà finanziaria. Io sono Peter Valcef, il conduttore, e ti do il benvenuto. Se ritieni utile le informazioni che stai per ricevere, ti chiedo di lasciare un tuo commento sull'articolo relativo all'intervista mettere un like sulla pagina Facebook di Network Marketing Manager oppure iscriverti al nostro canale YouTube. Io ti ringrazio in anticipo per il supporto. E adesso iniziamo con l'intervista. L'ospite di questa puntata del podcast Network Marketing Manager è Salvatore Solarino. Salvatore ha accumulato negli anni tanta esperienza sia nel campo della venita diretta classica che nel settore del network marketing. In questa intervista ci racconterà la sua storia di come è stato il passaggio dalla venita diretta al network, ci dirà come organizza il suo tempo, come guida il suo team e tanto altro. Quindi adesso lascio la parola a Salvo. Allora, ciao Salvatore! Raccontaci qualcosa su di te. Dici un po' qualcosa sul tuo background e raccontaci come mai hai deciso di iniziare la tua avventura nel network marketing. Ma guarda, la mia storia è abbastanza lunga. Cerco di racchiuderla in pochi elementi. Io, dopo il militare, ero un elettricista del Ministero della Marina. Mi sono sposato, figlio di statali. La nascita dei figli ha fatto emergere subito che uno stipendio statale non era sufficiente a coprire non solo i fabbisogni, ma a realizzare qualche desiderio. Quindi ho cominciato a fare tanti doppi lavori. Però riflettevo che non volevo fare tutta la vita come mio padre, mio nonno, a fare doppi lavori e morire in pensione. E colsi l'opportunità, nella fine degli anni 70, con la MC a vendere pentole. Lì mi si è aperto un mondo. Per diversi anni ho capito cosa vuol dire lavorare in proprio e cercare altre alternative. È al punto da lasciare il posto fisso e prendere la decisione e sarò un venditore. Dopo una varia sequenza di evoluzioni che mi hanno portato anche a diventare direttore commerciale di una grossa azienda. Nel 90-91 decisi, pur avendo una vita molto soddisfacente, decisi che avevo perso però dei valori molto importanti e chiesi a mia moglie se condivideva con me il fatto di passare dalle stelle alle stalle perché avevo bisogno di un po' di tempo per riprendere dei valori spirituali. E quindi cosa ho fatto? Mi sono dedicato allo studio delle religioni, ho praticato con varie tipologie di filosofie orientali, sono diventato master rechi, ero un operatore listico, però sono stato 15 anni senza lavorare. Un giorno mio figlio viene da me e mi ha detto papà hai fatto pace con Dio? Sì. Allora devi fare pace con i soldi perché siamo pieni di debiti e non si può più continuare avanti così. E lì mi affidai all'universo e mi arrivò la chiamata di un'amica che mi parlò di questa opportunità. Quindi il bisogno economico e il bisogno di stabilità mi ha fatto intraprendere l'attività di network marketing anche se io avevo delle grosse riserve verso il network marketing. E allora come mai avevi queste riserve? Queste riserve le avevo perché venendo dalla vendita diretta tutte le informazioni che avevo del network marketing erano negative. Sai la storia attività piramidali, è una fregatura, guadagnano solo i primi, prima o poi per di tutto o per di te. Io avevo 54 anni e non potevo rischiare di fallire o soprattutto di darmi la faccia che era l'unica cosa che mi era rimasta, la credibilità. Hai trovato invece delle similitudini tra il mondo della vendita diretta classico e il network marketing? Sì, poche. Vendita diretta classica, ti faccio un esempio, la vendita diretta classica almeno negli anni in cui la facevo io era un lavoro d'urto, per poter chiudere una vendita dovevi fare molti contatti, dovevi finanziare più il momento che creare relazioni piuttosto che andare a pensare a lungo termine. Il network marketing mi ha insegnato invece a costruire rendita più che a costruire stipendi e mi ha insegnato a creare relazioni. La relazione vale più di un risultato di un contratto perché nel network marketing quello che tiene unito la rete poi è la relazione. Salvo, a tuo parere quali sono gli errori più diffusi che commettono i networker? Guarda, io in questi dieci anni di esperienza ne ho rilevati due molto importanti, opportunismo e improvvisazione. L'opportunismo e l'improvvisazione erano elementi indispensabili negli anni 80, 90, ma negli anni 2000 sono andati a scemare, infatti molti top del network marketing sono molto opportunisti e improvvisano, devono creare continuamente idee, difficilmente hanno dei metodi o delle strategie vincenti, duplicabili. Oggi è cambiata l'era della comunicazione, la cultura sociale, è cambiata la mentalità, ma oggi quello che funziona molto di più è la condivisione al posto dell'opportunismo e non più improvvisazione, innovazione. Quindi quello che bisognerebbe trasformare è quello di dire che una persona che inizia si trova troppo spesso a dover improvvisare o a dover fare quello che gli dicono, non viene educato, formato per creare una sua attività indipendente. Invece tu quale errore principale hai commesso da quando hai iniziato? Ne ho fatti diversi, grazie agli errori che poi scopri le cose giuste, ma l'unico errore che cambierei è che la mia diffidenza è durata tre anni e quindi ha ritardato un po' il mio processo di crescita e di benessere, pur se dopo due anni ero già in consiglio direttivo. La mia carriera è stata veramente velocissima perché ho applicato un po' l'esperienza che avevo, ma la mia diffidenza mi portava più a comandare che a dirigere, mi portava più a lavorare in prima persona che a delegare e soprattutto mi concentravo molto di più sui miei risultati e non sui risultati dei miei collaboratori. Quindi questo è stato un errore abbastanza importante. Tutto questo preveniva perché avevi tanta esperienza nel campo della vendita diretta, no? Associata a una cattiva informazione del network marketing, sì. Quanti anni hai lavorato nel campo della vendita diretta classico? 20 anni. Ah, ok. Invece secondo te in che modo si dovrebbe iniziare concretamente nel network? Allora, guarda, il modo migliore è seguire una filosofia senza sosta e senza fretta. Una persona che entra nel network marketing non deve pensare né a fare i soldi subito né ad avere subito un risultato, deve acquisire la mentalità imprenditoriale. Quello di non crearsi grandi aspettative e non attivare forti pregiudizi. Ok. Prendo sei mesi, dire in questi sei mesi farò da una parte tutte le mie valutazioni, prendo informazioni, cerco di applicare un metodo. Ok? Ok, Salvo. Invece come si fa a guidare un team? So che tu hai un team abbastanza numeroso, no? Come fai a guidare il tuo team? Prima lo guidavo in prima persona. Prima facevo 80-90 mila chilometri l'anno e lo guidavo attraverso l'esempio, l'esperienza, la conduzione e poi negli ultimi due o tre anni, anche grazie al supporto di mio figlio che è diventato un forte coach, ho cominciato a creare strumenti e strategie che permettessero a tutti non solo di ottenere risultati, ma soprattutto di diventare autonomi e quindi questo mi ha portato un grosso valore aggiunto. Oggi ho un portale di formazione dove ho mille utenti che si fanno formazione a casa, ho una pagina segreta Facebook con mille membri che assistono ai miei webinar, ho degli accordi speciali per dare a tutti il mio sito, non il mio sito, a ognuno un sito personale, quindi ho creato tutta una serie di realtà che mi permette di arrivare lì dove non posso arrivare con il mio spazio-tempo. Hai cercato di automatizzare il più possibile la tua attività? Esatto, senza perdere di vista il valore della relazione, quindi organizzo meeting, convegni, ritiri perché poi il rapporto col team è molto importante. E qual è invece secondo te il miglior rapporto tra, diciamo, la vendita dei prodotti e invece più, diciamo, il reclutamento di nuovi collaboratori? Sì, io il metodo e la guida che do ai miei collaboratori è l'uso dei prodotti personali per aumentare la conoscenza e quindi la credibilità. vendere i prodotti dedicando il 20-30% del proprio tempo solo i primi mesi, per avere dei feedback positivi sul prodotto, per avere dei riscontri sul prodotto, per far circolare un po' il prodotto e poi l'80% del lavoro invece è la concentrazione sulla rete. Appena la rete parte, il prodotto lo vendiamo se ce lo chiedono, se no si muove attraverso l'autoconsumo e il lavoro dell'attività della rete. Certo, certo. Come cerchi di organizzare la tua settimana tipica? La mia settimana tipica è fatta in questo modo, io prima pianifico tutto l'anno in funzione degli obiettivi che abbiamo sia io personalmente che i miei manager, poi programmo le attività principali trimestrali, quindi ogni tre mesi qual è il nostro intervento sulla formazione e motivazione della rete, strategie eccetera. È chiaro che faccio e insegno che ogni tre mesi dobbiamo fare vacanza, che dobbiamo dare valore al nostro lavoro. La settimana la riempio al 40% pianificando gli appuntamenti, gli interventi e il 60% lo lascio all'imprevisto, perché un'altra filosofia che io porto, per molti questo lavoro è occasionale, io invece insegno a far sì che ogni occasione possa diventare opportunità di lavoro e se non lasci spazio all'imprevisto non hai occasioni. Certo, certo. Salvo, potresti raccontarci di un periodo in cui magari ci sei trovato in serie difficoltà e se c'è stato tale periodo, quale lezioni principalmente hai imparato? Guarda, ce n'è stato uno molto particolare. Quando a marzo del 2011 ho avuto un grave infarto al mio cardio anteriore dove ho rischiato veramente la vita. Lì sono stato 11 mesi senza lavorare, ho dovuto prendermi cura di me in prima persona, però quegli 11 mesi sono stati veramente importanti. L'infarto è stato un grosso regalo. Mi ha permesso innanzitutto di valorizzare il network marketing in quanto ho visto arrivare tutti i mesi gli stipendi anche se io non lavoravo più. La seconda cosa che ho visto è tantissima gente che mi ha dimostrato affetto, amore. visto che molta gente non mi vedeva solo come leader o come sponsor, ma mi vedeva come essere umano. Quindi lì ho imparato a rivalorizzare tutte le persone. Infatti c'è stata una modifica di strategie. Se dal 2011 a 2016 ho quasi triplicato i fatturati è perché ho cominciato a dedicarmi al benessere delle persone, a dargli valore e questo ha portato a un risultato incredibile. Ho capito, ho capito. Salvo, chi è la persona o le persone che ti hanno ispirato di più nel tuo percorso in questo campo e perché? Guarda, sono due le persone che hanno fondamentalmente influenzato la mia vita, oltre che il mio lavoro. La prima è stata l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavoro, Giancarlo Negri, che oltre a sostenermi e incoraggiarmi negli momenti di difficoltà, di confusione, di differenza, è stato sempre per me un grosso esempio sia di etica che di professionalità e soprattutto di confronto. Poi nella seconda fase in questi ultimi tre anni è intervenuta una seconda persona molto importante che è il mio figlio Rosario Solerino. Abbiamo finanziato tempo e denaro per sviluppare un suo talento naturale e oggi credo che sia diventato uno dei migliori life coach in Italia, non solo sempre più efficaci, ma partecipando notevolmente al mio incremento di fatturato e soprattutto liberare il mio tempo libero. Ok, ok. Cosa diresti ad un networker che ha magari la famiglia o comunque gli amici che gli sconsigliano di fare network marketing? Rispondo con un vecchio detto che dice più sei ostacolato più le tue scelte vuol dire che hanno valore perché solo chi sta lavorando per uscire dalla carenza, dalla mediocrità, vuole cambiamento, trova delle resistenze. Resistenze che trova sia dentro di lui nei vecchi schemi mentali acquisiti dalla società e sia all'esterno della famiglia. Il mio consiglio è di non entrare mai in conflitto, assorbire le critiche senza interferire sulle scelte e poi quando porti i risultati vedrai che cambiano perché di solito le critiche in famiglia sono fatte da persone che ti amano e con il buon senso stanno cercando di proteggerti e non capiscono che invece tu facendo questo stai liberando te stesso e contemporaneamente stai liberando loro. Certo, certo, sono completamente d'accordo. Salvo, ci sono dei libri che tu magari consiglieresti di leggere ai nostri ascoltatori networker? Guarda, sono tanti. Io ti dico i tuoi libri che hanno influenzato, non ti dico i libri che sto leggendo adesso o che sto studiando adesso, ma quelli che hanno influenzato il mio focus che mi ha permesso di andare avanti. Uno è Come ottenere il meglio da sé dagli altri di Anthony Robbins e l'altro è Le sette leggi spirituali del successo di Deep Chopra. Questi sono due libri che consiglierei a tutti quelli che vogliono chiarezza e forza nelle tue macchine. Ok, ok. Invece ci sono degli strumenti o comunque dei tool, dei software che tu magari usi per svolgere il tuo lavoro? Ne uso tanto, ma fondamentalmente lo strumento oggi più potente e più facile di acquisizione è Facebook. Facebook è come gruppo segreto per webinar e comunicazione a tutta la rete per comunicare attraverso i video che sta diventando sempre di più la nuova comunicazione. Poi uso tanti software per editare, per elaborare dati, perché io sono appassionato di numeri, tengo sempre sotto controllo tutti i risultati della mia rete per fare poi i dati, analisi, statistiche, proiezioni. C'è qualche software in particolare che ti piace molto? Guarda, uno dei quelli che amo di più in assoluto, io uso il Mac e il Number. Il Number mi permette di impostare una serie di calcoli automatici e poi ho programmato un prospetto sei anni fa e sono sei anni che me lo fa in automatico. Salvo, se una persona vuole rimanere in contatto con te, come può fare? Guarda, può farlo sia tramite Facebook, basta scrivere Salvatore Solarino Brescia, oppure per email info-salvatore-solarino.it Le mail le guardo sempre, tutti i giorni e quindi non ho nessuna difficoltà. Perfetto, nelle note relative all'intervista metterò per iscritto i tuoi dati di contatto. Io, guarda, ti ringrazio davvero tanto per aver dedicato questa ventina di minuti per raccontare velocemente la tua esperienza, per averla condivisa con tutti gli ascoltatori. Se qualcuno a stare meglio nella vita e nel network marketing, è felicissimo di aver contribuito. Ok, grazie Salvo, grazie ancora e ti auguro un buon lavoro e di risentirci presto. Grazie, ciao ciao. Prima di salutarci, ti ricordo di venire a trovarmi sul blog networkmarketingmanager.it dove puoi trovare le note relative a questa intervista e porre delle eventuali domande. Ci consiglio inoltre di lasciare la tua email nel format che trovi sotto l'articolo, così verrai subito avvertito appena esce la prossima intervista. Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro! Ciao e buon lavoro!